Il 7 e l'8 gennaio le scuole primarie e secondarie di primo grado di Chieti resteranno chiuse per uno screening di massa. In collaborazione con l'esercito verranno effettuati tamponi antigenici a tutti gli studenti delle scuole dei quattro comprensori teatini. Faremo nei giorni 7, 8 e 9 uno screening di massa, ovviamente con adessione volontaria, ai ragazzi frequentanti le elementari e le medie del nostro territorio cittadino con tamponi antigenici. Per questo motivo l'amministrazione sarà coadiuvata dai carabinieri e dall'esercito al comando del tenente colonnello Falvo Salvatore per dare una maggiore sicurezza al rientro a scuola. Ho predisposto l'ordinanza per il prolungamento della chiusura delle scuole fino al 9 di gennaio con riapertura al 10. Una decisione che è stata presa per iniziativa dell'esercito anche? Sì e anche del prefetto con il quale mi sono sentito ieri telefonicamente e organizzandomi con il colonnello medico appunto Salvatore Falvo e parlando anche con le direttrici didattiche dei quattro comprensori di Chieti e stiamo sinergicamente approntando questa campagna di screening.